Allora, determinare m alla seconda sapendo che x, y ed m sono numeri interi e soddisfano il seguente sistema. Allora, come al solito puoi fermare il video per risolvere per conto tuo questo esercizio? Allora, osserviamo che dalla seconda equazione noi ricaviamo sostanzialmente che 2y è uguale a 3x, quindi andando nella prima abbiamo, dopo la sostituzione di 2y uguale a 3x, abbiamo m più 3x uguale a 10 e quindi x uguale a 10 fratto m più 3, naturalmente m, deve essere diverso da meno 3. A questo punto, se vuoi, puoi procedere per conto tuo. Allora, dalla prima equazione noi osserviamo che 2 deve essere per forza un divisore di x, visto che y e x sono numeri interi, quindi 2 divide x. Cioè, in altre parole, x è un numero pari. Attenzione che 10 è fatto da 2x, quindi m più 3 deve dividere 10. E qui siamo i seguenti casi. M più 3 uguale a più o meno 1, m più 3 uguale a più o meno 2, m più 3 uguale a più o meno 5, m più 3 uguale a più o meno 10. Ora, tenendo conto che 2 deve essere un divisore di x, è chiaro che possiamo sbarazzarci di m più 3 uguale a più o meno 2, che darebbe x uguale a più o meno 5, e anche di m più 3 uguale a più o meno 10, perché darebbe x uguale a più o meno 1. Va bene? Allora, adesso da m più 3 uguale a più 1, noi deduciamo che cosa? Che m è uguale a meno 2, meno 4, da m più 3 uguale a più o meno 5, noi deduciamo che m è uguale a 2 meno 8. Va bene? Allora, una volta che abbiamo m uguale a meno 2, noi abbiamo anche il valore di x. x è uguale a 10. Qui abbiamo x uguale a meno 10. Va bene? Qui abbiamo x uguale a 2 e x uguale a meno 2. Una volta che abbiamo i valori di x, grazie a questa equazione qui, 2y uguale a 3x, abbiamo anche i valori di y, cioè y è uguale a 15, y uguale a meno 15. Qui y è uguale a 3, y uguale a meno 3. Ora, se andiamo a sostituire mxy in questa equazione, ci accorgiamo che questa funziona, questa no, questa funziona, questa no. Quindi m è uguale a più o meno 2 e quindi questo vuol dire che m al quadrato è uguale a 4. Naturalmente è una strada, diciamo, non troppo rapida, ma neanche particolarmente lunga. Magari tu riesci a trovare una strada più rapida di quella da me presentata.